Queste persone, tutti, sono questo nome Mai amare stasera Sono male se non viera Ma scrivono da vola Cagname parole Lascio capire Prima volta in radio Vi vorrei dire che Un mese fa Cantavo in cameretta E ora in radio Radio Z Marisol, non ti congratuli con il tuo uomo Che roba bella, raga Cioè deve essere un'emozione assurda Bravo Abbraccio di gruppo Abbraccio di gruppo E, 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 e Sono male se non vieni E, 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 e E, 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 e